Ciao ragazzi, sono CioFizzers e oggi siamo qui con Crafting Dead. L'anno scorso iniziale abbiamo iniziato e oggi sto cercando di capire qualcosa. Perché così nero? Forse perché mi sono dimenticato di mettere le impostazioni qui. Ok, ora va meglio. Allora, dobbiamo raggiungere un albero. Sarà una cosa molto difficile, siccome c'è un apocalisse in zombie. Ma non ci sono i Creeper? O i Skeletrip? Mi mancano i Creeper. Mi mancano i Creeper. Vabbè, che poveri Creeper, non posso farci niente. Cosa volevo fare? Un piccone? Ebbè, posso farlo anche di ferro adesso. Ma sì, dai, un piccone di ferro. Eh, veramente mi serviva l'ascia. Mia, quanti ce n'è? Come faccio di uscire da qua adesso? Ormai non ci scopio io. Almeno che non prendo tutti i blocchi qui. E poi vado facendo un ponte fino dall'altra parte. Intelligenza. Se faccio così, non credo di aver tentato a scelta. Vabbè, perché non uso questo piccone qua? Ma non capisco perché non ci possono fare l'armatura qui. È una cosa troppo cattiva. Con questo apocalisse qua è nato. Ok, stavo per fare qualcosa di l'osco. Vabbè. No, questo magari mi raccomando anche l'inventario. Ok, si procede. Ma sono stupidi, non riescono neppure a salire le scale sti qui. Beh, problema loro, eh. Per me va benissimo. Ok, spero che questi sette mi bastino. Tanto se ci sono dimenticati di me, quegli stupidi. Eh, ma è arrivato Johnny adesso. Uh, per poco. Vabbè, faccio così. Ok, abbiamo trovato una tutta cacchetta. Cos'è? Un morpidine. Un super... cosa? F. E tic tic tic? Non dirlo in fame. Un morpidine. Cos'è un morpidine? Boh. È un'arma. Un super cessor. Cos'è? Suppressor. E dov'è il mio suppressor? Ecco qua. Ok. Abbiamo raggiunto quest'altra casetta. Vediamo un po'. Allora, noi dobbiamo procedere verso... Di là. Perché ci sono gli alberi. Ed è molto propizio. Ok. Quindi... Andiamo. Ce lo faremo? Non lo so. Non ci vedo niente. Non ci vedo niente. Proprio niente, niente. Torniamo indietro. Anche abbastanza velocemente. E adesso, indifferentemente a quello zombie, noi procediamo alla nostra strada. Però, vedendo che... Mamma mia! Aiuto! 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 Muori! Muori! Brutto Bacucco! Brutto Bacucco! Aiuto, Bacucchi! Aiuto, Bacucchi! Bacucchi! Aiuto! Aiuto, Bacucchi! 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 Mi seguono! Aiuto! Brutti! Brutti! Bacucchi! 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 Rompi! 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 Aiuto! Ma quanti ce n'è? Quanti ce n'è? Aiuto! 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 Mi butta giù! Mi butta giù! Oh mamma mia! Rompi! Rompi! Rompi subito! Oddio! Perne marcia dove? Non c'è scritto. Qui. Eh, so per morire! Beh, non è vero. Questo che mi faccio? Che ho fatto? Cosa ho fatto? Mi ho sparito? Ah, posso usare questo qui? Mamma mia! Mamma mia! Questo come ho fatto? Niente! Barbedo! Oddio! Apocalittico! Ma qua ci muoio io! Sto morendo di sanguato o qualcosa di questo tipo! Sì, lo vedo anch'io! Salto e procedo! Ma mi seguono! Mamma mia! Sono troppi! No, ora mi raggiungono! Mi raggiungono! Salto! Ah no, mi hanno minimamente raggiunto! Va! Va beh! Aiuto, 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 aiuto! Che è sto coso? Un fucile? Adesso! Ok! Ah, ecco! Mi è venuta un'idea geniale! Mettiamo giù! Molto piano! No, aspetta! Qua c'era la ghiaia prima! Ci metto un piedisco! Ok, allora! Noi dobbiamo raggiungere per forza gli alberi! Possiamo farli in due modi! Oh, continuando a fare i ponti! Pure ammazzandoci! È preferire quello di fare i ponti! Proviamo a fare questo meditolo qui! Ok! No! Dai, adesso arrivano a piedi su! Prendi! No, no, credo! No! Muori! 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 Sì, ci vuoi! E prendila! Ah, prendo! Ok! Presi! Come faccio di andare più là? Poi sti qui non bruciano neanche di giorno! Oh, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Ma cadi giù! 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 Cadi giù! Ah, è morto! Vabbè, cadi giù! E cadi giù! E cadi giù! E cadi giù! E cadi giù! Vabbè, se continuo così basta che faccio così. Ta ta ta-ra 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 ta-ra! Finito! Adesso lo fanno anche automaticamente! Ta ta ta-ra-ra ta-ra 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 ta. Oh, è morto Mamma mia, facendo così Stiamo massacrando Perché questo qui è una faccia da creeper? Anche quello Uh, un coso Via, levati adesso Anche te Cos'è? Devo assolutamente averlo No, mi sa che è caduto No, dov'è? Vuol sapere che è capitale Ah, salve Oh no Mi arriva sempre di più Ah, c'è l'orecchio lì C'è un orecchio che... Oh, è giorno, è giorno Beh, adesso ce ne sono pochi Se mi muovo riesco a raggiungere un albero Non so quale, ma riesco a raggiungerlo Quindi mi muovo Mi muovo? Mi muovo veloce Molto veloce Moltissimo veloce Squid Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia No, no, non posso morire Sono troppo giovane Sono troppo giovane Entra, entra Dov'è la porta di sto coso? Vai, chiudi, chiudi Uh Uh, martello Uh, martello Mi sto morendo Ho zero di sangue Dammelo Dammi sto coso Cos'è? Un blood qualcosa Come si fa a usarlo? Uh, e vai Uh, sono salvo Sono Salvo Giusto Blood Ok Allora Stiamo abbastanza No Stiamo abbastanza bene Non cavolo Sta continuando a scendere Ma poco moriamo Uh, ok Muoviamoci allora Ricordiamoci Facciamo una cesta Fretta E raggiungiamo Quel legno là Ok Aggiungiamo Quell'albero in fetta Mettiamo una cesta E lasciamo tutte le cose E poi torniamo qui Se ci riesco Oh no Mamma mia Però Sono troppi Questa mod è cattiva Ok Serve ancora Aia Eh, però Come ho fatto a tornare Senza piccone poi Boh Qualcosa Me lo inventerò Ci metto la terra Adesso La roba Vai, vai Veloce Ok Stiamo per morire Stiamo per morire Quindi muoviamoci Ecco Ecco Fantastico Mi arrivano pure i messaggi No Vai, va Ciao Mia Prendilo Vai No Ce l'ho mangiato 120 Muoviti Vai Veloce 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 Crafting Sta cominciando a morire Ora muoio Vai, vai, vai Metti tutto Metti tutto Vai Adesso posso dire che sono Ho finito la mia vita Ok, fantastico Sì, adesso devo tornare lì Sì Cambio di programma Attaccare quel tizio che fa davvero schifo Non volevo correre Se hai suicidato Eccolo qui Ora basta pittarlo un pochino E poi devo pure ricercare la casa Di quella torre No, e muori Ok Entrata, 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 entrata Vai Ok Saliamo Le scale Saliamo Le scale Non c'è cavolo Ambo Che cos'è? Che cos'è sta roba? Ok, posso smettere di parlare così Cos'è sta roba? Boh Ahia Non dimmi che ho fatto baccano Se non mi è rimanato sotto Tutti in tette Uh Una torcia La prendo Ambo Vabbè, vediamo Non c'è altro Sicuri? Ok Dobbiamo Essere molto furtivi E muoverci Non perdiamo sangue, no? Ok Prima individuavamo qual è Se uno zombie ci individua Subito ci mettiamo a correre Quello lì Che mi avete visto E allora ci mettiamo a correre Udio Dov'è l'edificio dove eravamo andati? Allora Eravamo scesi da qua E molto velocemente Ci eravamo catapultati A quello laggiù Eccolo, eccolo Salto Che salto Vai Per La patria No, potevo lasciarlo perso almeno Sì We are the champion The pigs are there Ok Ok, l'apocalisse è stata scongiurata Perché da adesso in poi Creerò il mio La mia casetta qui Forse No, se spacco qui salgono Quindi Facciamo qui No Ok Da qui avrà luogo il mio impero Ok, vediamo un po' Questa fortezza qui Direi che va bene Come casa Per ora Per ora Allora Dobbiamo Dizombificare Tutta la zona qui attorno Quindi mettiamo tutto qui dentro Prendiamo Questo martello Che sembra potente E la spada Perché magari Se il martello non lo è Tre colpi con questo E vediamo quanti con questa Uno Uno Eh però Quanti siete Due Ok, più forte il martello Molto più forte il martello Tre colpi Le uccide La spada forse è che Quattro cinque Ok, prendiamo la carne in marcia No Stiamo di nuovo perdendo sangue È che noia però È la carne in marcia Allora me la conservo Tanto so che morirò Prima o poi Oh, ancora Ancora Chi c'è? Ah, ti naspondevi Eh Questa magari Me la mangio Cercherò di sopravvivere Il più tempo possibile Certo Questo lo farebbe chiunque Eh però Così salvo Ok Guarda quello Dove è spavolato Proprio sull'albero Eppure io si è fuori ucciso Sì, lo so Sto morendo Mamma mia Tu non mi aiuti Tu non Mi aiuti Corri Uh, uh, uh Martello Spada Cos'è? Prendilo No, è dall'altra parte È dall'altra parte Prendi 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 qualcosa Guardate Ok Va bene Qua ci vorrebbe una bella porta Allora Abbiamo otto pezzi di legno E basta Abbiamo solo questo Vabbè Allora facciamo gli stick Se non ce l'abbiamo già No Allora facciamo gli stick Con gli stick Si fa Una Un piccone Ce l'abbiamo già Giusto? Sì Allora Scaviamo sotto la terra Ok Dai Sto di nuovo morendo Di sanguato È che noia No Allora scaviamo per di qua La cesta la metto più in profondità Perché faremo l'impero sotterraneo Per il momento Ragazzi In futuro lo faremo fuori Però per ora che facciamo ancora schifo Lo facciamo lì Almeno in teoria quando Me ne entro in casa Non dovrebbero spawnarci Di zombie Giusto? Ok No Qui è ancora troppo basso Scaviamo ancora Oh che epico Ok Aspetta magari ho trovato le monetine per questo No No Vabbè Continuiamo Ma nel prossimo episodio